Andiamo con l'ultima point di questa bellissima serata e arriva Titina. E' arrivato il mio momento di salutarci, grazie di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima, la nuova Romagna e Polchi, i colori nella musica, buona Pasqua a tutti voi, buoni entro le vostre case, ciao! Grazie a tutti! 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 Ciao a tutti! Grazie 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 a tutti!